Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video ASMR Il video di oggi, il caldo, è atroce Io sto morendo veramente Vanno tipo 40 gradi, non per scherzare Cioè, letteralmente E io mangio cose calde Perciò ridiamo veramente Comunque oggi ho un sacco di cose buonissime da condividere con voi Allora intanto ho un Piattone di patatine Che non so come girarvi perché cadono Però sono tante Perché è un piatto pieno E poi, come immagino avete visto dalla copertina Ho qui la pizza Ne ho due pezzi di margherita E due pezzi di prosciutto cotto e mozzarella Ciao a tutti Niente da dire Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti non mi devo riempire tutta di patatine perché sennò non mangio più la pizza e quindi ora iniziamo con questa carta qui di margherita ora vi ne parlo però prima volevo iniziare a mangiare allora in pratica come avrete notato questa è pizza in teglia non è pizza d'onda ci sono diverse scuole di pensiero c'è gente che c'è una morte con la pizza in teglia non sono tra quelle comunque io riconosco che sono cose diverse la pizza in teglia è la pizza d'onda classica proprio due tipi diversi però a me onestamente piacciono tutti e due ma il mio amore per la pizza in teglia è nato quando ho conosciuto questo posto qui a Roma che si chiama Madrem che è sensazione fa un piccino di teglia a me piace a gusti più semplici perciò ne riprendo margherita o questa olla il cotto e la mozzarella oppure è molto molto buona quella con stracchino mi pare sia e salsiccia è buonissima sensazionale però non si trova quasi mai quella con mozzarella mortadella no non è mozzarella forse sempre stracchino mortadella e pistacchio che ve lo dico a fa quella con le patatine niente io sono abbastanza ossessionata con questo posto e onestamente mi piace veramente tanto sia la loro pizza che i loro dolci i loro dolci poi sono veramente una cosa cioè al di là al di là dell'immaginabile perché vanno i pancoccioli ripieni tipo con i kinder cereali e cioccolato bianco nutella biscuits oppure soltanto nutella soltanto cioccolato bianco pistacchio cioccolato fondente cioè vi gioco qualsiasi porcata che voi potete immaginarvi loro fanno poi fanno dei muffin come sono la fine del mondo un sacco di dolci però il loro punto di forza sono i pancoccioli una patatina le ho semplicemente comprate su gelate e fate al forno però un po' d'acqua passo a quella con il prosciutto io vado pazza per quella con il prosciutto forse è la loro preferita cioè la mia preferita tra quelle che fanno loro guardatela quanto è bella bella prendo col tovaiolo perché ovviamente è un po' muta no vabbè questo è il paradiso è proprio buona l'impasto è buonissima buonissima non vi portavo non vi portavo un video in cui mangio la pizza dai primissimi tempi perché considerate che io come ormai sapete ho aperto il canale quando stavamo in quarantena e la mia famiglia a dicembre novembre dicembre 2020 sì 2020 e quando ho registrato quel video eravamo ancora in quarantena quindi è uno dei primissimi video ed è il primo video che è andato virale ci ha fatto 10.000 visualizzazioni che è rimasto il record imbattuto sul mio canale e io ero scioccata perché fino a quel momento avevo pubblicato video ma nessuno li aveva visti quindi non me lo aspettavo mamma mia io vorrei registrarvi lì più un hookbang con cose porche tipo qualche mese fa volevo farvi un video con la pizza di Domino Domino's non so come si pronuncia comunque non l'avevo mai assaggiata Domino's Pizza che è una cosa cioè insomma abbastanza virale che pensavo vi potesse interessare dato che qui a Roma c'è insomma mentre invece in Sicilia non c'era e quindi quando l'ho assaggiata la prima volta volevo farvi un video ma non è fattibile perché molto spesso quando mangio cose buone le mangio in compagnia non da sola tipo come una delle mie congurine in genere faccio quasi tutti i pasti insieme e e quindi cioè non è che le dico no oggi lo mangiamo insieme perché devo fare il video da questa parte lei non vuole gestarne con me e quindi cioè non è che ci siano molte alternative e molte cose da fare e poi lei non prende la pizza quando la prendo io in genere lei prende la poche io non so come cioè a me non piace la poche io non so come si faccia a mettere al paragone la pizza con la poche sicuramente qualcuno nei commenti mi dirà a me piace di più la poche della pizza io non capisco come del riso con un po' di ingredienti buttati là possa essere più buono che una pizza la pizza è sacra per me la pizza è sacra poi gusti su gusti figuratevi scherzo sempre vi giuro questa pizza quella è prosciutto cioè è un altro livello è un'altra cosa io ovviamente ce la scopazza purtroppo come avrete notato sono una di quelle bestie di satana che lascia i cornicioni vabbè ma dipende dal tipo di cornicione cioè se è tipo cornicione ripieno particolarmente buono ok però se è cornicione normale visto che se no non mi rimane abbastanza spazio per mangiarmi tutta la pizza la parte centrale occupare spazio con il cornicione vabbè comunque mi scuso per le condizioni un po' di questo video nel senso che io sono molto accaldata ed sono diventata tutta rossa perché sto sudando per registrare con le finestre chiuse senza ventilatore i capelli qui cioè sto muovendo e sono struccata perché c'è un in tutto in stanza non mi andava di truccarmi solamente per registrare il video ed è un video un po' cioè alla svelta nel senso semplicemente mangiavo la pizza e ho deciso di registrare il video però spero comunque che l'abbiate apprezzato perché in genere vi piace quando mangio cose un po' più porche quindi volevo condividerla con voi dato che oggi sono sola appunto e niente spero che questo video vi abbia rilassato probabilmente continuerò a mangiare il resto della pizza più tardi fuori off camera senza il video senza registrare però comunque buonissima mamma mia matrim veramente fatemi sapere se qualcuno lo conosce perché in realtà non è così tanto conosciuto però è una rivelazione cioè io da settembre mi sono trasferita qui ci vado tipo una volta settimana cioè vabbè vabbè è colpa di matrim ma si ingresso fa niente ne vale la pena decisamente e con queste ultime sciocchezze io vi saluto e spero che insomma che vi sia piaciuto che questo video vi abbia rilassato e vi dico che ci vediamo direttamente nel prossimo grazie a tutti per insomma aver scelto di guardare questo video ciao a tutti grazie